Ora è ufficiale. I comuni comaschi chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali andranno al voto l'11 giugno prossimo, con eventuale ballottaggio il giorno 25. Lo ha decretato oggi il Ministero dell'Interno, confermando la data che da tempo era ritenuta la più probabile. Oltre a Como, Cantù ed Erba, uniche città potenzialmente interessate dal ballottaggio perché oltre i 15.000 abitanti andranno alle urne Alta Valle in Telvi, Appiano Gentile, Barni, Beregazzo Configliaro, Blessagno, Brienno, Campione d'Italia, Geralario, Guanzate, Orsenigo, Porlezza, Rodero, Rovello Porro, San Bartolomeo Valcavarnia, San Fermo della Battaglia, in quest'ultimo caso a seguito della fusione con Cavallasca. Senza nulla a togliere agli altri comuni, gli occhi ovviamente sono puntati sul capoluogo, Como, dove la lista di candidati si sta delineando. Per il centrodestra correrà Mario Landriscina, per il PD e parte del centrosinistra Maurizio Traigo, Alessandro Rapinese e il candidato di adesso Como Fabio Aleotti del Movimento 5 Stelle e Bruno Magatti della lista Civitas. A breve un'altra lista, la prossima a Como svelerà il proprio candidato sindaco. Grazie a tutti.